E voglio presentarvi una persona che per la nostra città, per la nostra terra è molto importante. Un ex partigiano, comandante di una battaglione di 900 uomini, è stato molto feo di un sindaco di Torreggio e dopo è stato giustamente condannato per aver ucciso un parolo. Una persona che ha fatto 10 anni di galera e dopo 47 anni è riuscito a ottenere dagli organi dello Stato la sua riconoscenza della propria inelgenza. Germano Nicolini, Germano Nicolini, Germano Nicolini, colore di Castaio e il diavolo! Grazie a tutti! Se è così che ne fai, dell'amore che muove le cose, diavolo tu che sei, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, dell'amore che muove le cose, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Se è così che ne fai, se non è la nottia finita. Grazie.